Ohoho! Ciao! Sì, sono sul Duomo di Milano, ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video! Oggi proveremo a finire Minecraft da Smurf Cat, però mi trasformerò... Ciao, ciao! Sono Smurf Cat. Per chi non lo conoscesse, è una delle meme del mondo... No! 25 minuti! Come faccio? Devo iniziare subito, devo iniziare subito! Piccone Smurf Cat tra 25 secondi. Io adoro questa meme, raga! Ogni volta che la vedo su TikTok mi scasso dalle risate! Non ho ben capito perché faccio ridere, ma perché non lo... Ma raga, sono... sono un gatto fungo che spacca il legno su Mike! Comunque, primo oggetto che sbloccheremo, piccone Smurf Cat, raga! Scrivete nei commenti le vostre meme preferite del periodo perché... Ma cos'è questa cosa spettacolare? Ma ragazzi, se no, hai fatto creare tutto tu queste cose, eh? Giusto per capire perché è abbastanza devastante come cosa! Comunque, io direi che dobbiamo andare, dire chiaro, ok? Direi che dobbiamo andare direttamente in miniera, ma prima mi prendo giusto un pochettino di ebayle... Perché, insomma, cioè, sai, vorrei anche mangiare qualcosa, dato che non ho un kit iniziale oggi, come avete chiesto voi! Ogni tanto, Marci, fai video senza kit iniziale e rifatti tutto da zero ed eccoci qua! Ci facciamo tutto! Ehi, 33 panini! Ti direi, non male, 33 panini! Ora, mi faccio anche l'accettina, bella, bellosa! E me ne vado subito in caverna! Però, quasi, quasi! Sai che ti dico? Ho una spada Smurfgat che mi appare... Adesso! Ma cos'è sta cosa, leggiamo? Sparagatti esplosivi! Ma cosa dici? Non è vero! Non è vero! È bellissimo, raga! Ok, non mi ha droppato il ferro perché è esploso il ferro, mi sa! È esploso con l'Iron Golem! Va bene così, direi che andiamo in caverna! È comunque la peggior caverna, o solo io potevo trovare una caverna con l'acqua, che mo' magari manco scende... Non scende! Dimmi che scende da qualche parte qua perché se no io impazzisco... Io te lo giuro, impazzisco, ragazzi, serve, eh! Io sto per spaccare tutto... Oh, invece forse c'è qualcosa... Sì? Godo tantissimo! Succede sempre sta cosa, raga, eh! Cioè, hai capito? Sto piccone Smurfgat spacca veloce! Ma mi devo pure cuocere le cose! Io veramente non c'ho parole, veramente! Però è divertente, raga, tornare un pochettino a fare queste cose! Allora, tu devi morire! Sì, però muoio... Cioè, se faccio così muoio anch'io! Perché questi gatti... No, 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 no! Gatto! Eh, lì sì, io sento... Senti gatti che esploda, raga! Cioè, ma vi... Raga, va troppo ridere, me lo giuro! Allora, prendiamo un po' di carbone, per favore, che qua la situazione è quella che è! Abbiamo comunque una spada a fungo che ci appare fra qualche secondo! Mi piacerebbe sapere cos'è anche quella! Oh, non mi ricordo più come si cuociono gli oggetti, raga, eh! Non mi ricordo più! Ma a voi piace di più quando cuoccio le cose? O qua... Eh, cos'è sta cosa? Usala per eliminare i mob fastidiosi? Dove? Cioè, sento uno schietro! Ma raga, tipo... One... One fa cose! No, zio, non è... Via, via, via! Ma no, raga, c'ho mezzo cuore e mezzo! Scappa subito! Matto, Marci! Matto furioso! Allora, fammi fare un'altra fornace, ce la faccio? Che facciamo un po' più in fretta che sono qua, ragazzi, sei anni e... Mi sento i zombie qua, eh! Facciamo così e ci prendiamo un altro pochettino di coal! Ali! Ali, ali, ali! Ok, vediamo un po'. Eh, via! Ciao! Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera a tutti! No, anche da dietro! Ma pensa te! Ma guarda un po' te sono riuscito ad ammazzare lì easy! Va bene, però ho bisogno di un po' di grovel! Via, via! Dai che ho bisogno della mia gravel, su! Non muoviamoci, per favore... Oh, me l'ha data subito! No, no, è qua sotto, raga, eh! È qua sotto da qualche parte! Eccola! Torniamo a noi, va! Allora, quanti ne hai, Cotti? Dieci più sei, ti dirò non male, eh! Ci facciamo questo, ci facciamo il secchiellino... Così col secchiellino, raga, mi prendo l'acqua... Che, tecnicamente, era proprio qua sopra, se non sbaglio... Dov'è l'acqua? Perché ho perso l'acqua? Eccola qua, l'acqua! Oh, eh! Dammi l'acqua qua, eh! Sul, sul... Eh, adesso vi faccio vedere Smurf Cat che fa il bagnetto! Ciao, sono Smurf Cat che fa il bagnetto! Ma... Va bene, basta! Ma, basta! Qui le fornace hanno finito? Beh, direi di sì! 19 pezzettini! Mi faccio anche un pezzettino di armatura che non si sa mai cosa fa! Mangia per avere effetti OP! Questo item ha un minuto di cooldown! Oh, interessante questa cosa, eh! Mi piace! Però adesso io ho bisogno di andare subitissimo nel Nether! Siamo a 18 minuti! 6 minuti per arrivarci! Un pochettino troppo, secondo me! Dobbiamo un po' muoverci! Perché se no qua la speedrun chi la fa? Non io! Che patato con l'armatura! Vediamolo! Ma è tenerissimo, raga! Oh mio Dio! Oh mio Dio! È dentro il suo cappellino! Io sto male, raga! Veramente! Sto veramente male! Dimmi che si scende! Ma qualcuno che mi dia della... Aspetta che metto l'acqua qui che magari siamo direttamente nella lava! Mamma mia! Lo smurfchettino che si è salvato! Oh, comunque qua c'è della lava! Ma ce n'è tanta di lava qua, eh! Ehi, raga! Qua si fa... Ehi, bello! E qua facciamo il coso, il portale, eh! Nel chilling lo facciamo qua! Aspetta, però! Devo farlo qui così! Poi devo fare... Aspetta, raga! Un attimino che qua devo... Devo un attimino ricostituirmi in maniera decente! Qui metto questo qua! Io poi qui faccio... Devo spaccare un po' tutto... Oh, raga! È difficile! Sono in una situazione di difficoltà in questo momento! Ok? No, no! Fammi prendere tutto! 1, 2, 3, 1... Uno di qui! E poi dobbiamo spaccare tutto il dietro lasciando un buchettino qua in fondo! Secondo me, raga, abbiamo fatto la cosa corretta! Se non è così, siamo nella cacca! Ma Marci l'ha fatto giusto subito! Yes! Troppo forte il nostro Marcello! Diamo! Ok! Ma guarda che roba, raga! Siamo già nel Nether! Mi mangio un pochettino di roba perché, insomma, sto già morendo di fame! Non è una cosa che va bene! Morire di fame! Quindi entriamo dentro! Passa! Siamo davanti a una fortezza! Questa cosa è molto interessante! Mi sa che mi mangio il funghettino! Cosa fa questo funghettino? Oh! Posso volare? Raga, l'ho fatto senza volerlo! Era un casino! Se non funzionava sarebbe stato un casino! Madonna mia! Ma muore... Aspetta, muore instant, ma non può... Eh, no! Non va bene, raga! Non va bene! Perché se muore così è un casino! Non danno le blaze road! Quindi devo ammazzarli per forza con l'accetta! Ci sta? Ok! Vieni qua! Una blaze road! Uè, tu come stai? Eh? Grande! Ulla! E tu non ti avevo visto, eh! Dammi la tua blaze road! Che dici? Quante ne abbiamo? Solo una! Non va bene una! Qua ne sono sette e ne servono! Dai, su, insomma! Tu me la darai subito, eh! No, no! Scappa, scappa, scappa! Fuoco, 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 fuoco! Via, 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 via! Va bene? Volete tirare il fuoco? Eeeh! Cosa volevi fare? No, no, no! Ma cosa voleva fare? Nulla! Aspetta che mi mangio il funghettino che qua sarà un casino, eh! Aspetta che qua... Ok! Ma che puoi morire anche tu, eh! Ma nessuno che mi dà la blaze road? Davvero? Porca miseria! Quante blaze do? Due! A me questa cosa non mi sa piacere! Quanti cavolo di blaze ci sono? Vieni qua! No, no! Pure Wither! No, no, no! Ma facciamo che me ne vado, eh! Vadi da qui, porca miseria! Guarda, eh! Dammi una blaze road! Devo rimangiare il funghetto! Mangia il funghetto, Marci! Mangia il funghetto, Marci! Allora, vediamo un pochettino se riesco! Madonna mia! Tommi sto blaze road! Quanto ne ho? Sei! Sei? Quando ne ho fatte sei? Raga, quanto ne ho fatte sei di blaze road? Va bene così, va bene! Sette! Via, via, via! Ciao! Andiamo a cercare il bastione adesso, raga! Bastione! Oro! E ci pigliamo tutto quello che è nostro! Eccolo il bastione! L'ho visto! L'ho visto, raga! It atomica! Bello! Bello! Vediamo un po' che bastione è! Allora, missa! Ok, è uno di quelli con le ceste al centro! Ti dirò! Ti dirò che non è male questa cosa, eh! Ti dirò che non è male sta cosa! Poi, io uso la spada per far sparire i piglin al massimo! Prendi tutta questa roba qua! Sì, sì, sì! Corri, corri, corri! Corri, 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 corri! Quanto oro che c'è qua! Smurfchettino! Con la roba! In me dirite, raga! Adesso ci facciamo lo smiting template! Oddio! Ehm, sì! Io sono amico, eh! Io amico sono! Io sono amico! Perché dice che... Ma dice che è morto il mio... Ma il mio Smurfchett è buggato! Eh, enderpearl! Ok, vai dentro! Sei potente! Sei un piglin potente! Altre enderpearl! Tre, raga! Sto a posto qua, eh! Cassa! Ne ho tre, eh! Sì, sì, piglin qua! No, c'è il piccolino, mi sa, raga! Basta, basta, basta! Troppi, troppi, basta! Chiudi! Chiudi anche di qua! A me questi qui mi bastano e mi avanzano! Ora, fammi scendere! Che io da qui posso capire se c'è un altro enderpearl! No, 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 no! No, no, no! Tranquilli, vi ridò l'oro, vi ridò l'oro! Aspetta, eh! Ve lo ridò così! Prendetevi l'oro! Ma vedo pure l'altro stack nel chilling! Guarda, voi siete tranquilli! Datemi le blaze! No, non sono blaze! Non sono... Urco! Quanti me lo date? Nove! Ciao! Altri enderpearl, raga! Cassa, cassa qua! Cassa, cassa! Allora, voglio vedere una cosa! Mi faccio una roba stupidissima, raga! Allora, facciamo così! Smite in temp table! Adesso non mi ricordo come funziona! Ma se io metto queste... È diventata di nederite, raga! Raga, lo smurf cat qualcosì... Ma è morto! Sono tornato normale! Ciao! Sono bellissimo, vero? Molto bene! Adesso dobbiamo andare, però, semplicemente... Uh, quante enderpearl, però! Ah, io mi faccio ammazzare, raga! Nel chilling! Guarda, guarda qua! Ma quante enderpearl ho, raga! Oh, ma sono tante! Andiamo a ammazzare il nostro enderjagon! Allora, quante ne abbiamo qua di blaze rod? Qua tor? Dice, vabbè, raga, dobbiamo una marea di enderpearl! Vediamo un pochettino dove ci fa andare! Ma cassa proprio, eh! Di lì io mangio... Il coso, ovviamente, si è rotto perché sia mai che non si rompano a me le cose! Volo fino a nuovo ordine, raga! Sarà divertente, comunque, vedere uno smurf cat piccolino che ammazza un drago... ...con una spada che spara gatti esplosivi! Sì! Mangia margewitz! Mangia margewitz! Più o meno saremo vicini, raga! Sì, ma coordinate! Voi non le vedete? Novecento mille trecento! Più o meno, secondo me, dobbiamo lanciarla adesso, la perlina! Vamo a salanciare la perlina! Vamo a salanciare la per... Eh, non ha cambiato... Ha cambiato direzione, in realtà, eh! Ha cambiato direzione! Me la ridai! Grazie mille! Molto, molto, molto gentile! Ti ringrazio per questa cosa! Secondo me ci siamo, raga, eh! È andata dritta di qua o sbaglio? Aspetta, fammi lanciare! È andata ancora dritta! Ok, dammi questo, per favore! No, no, no! Non mi fa morire! Madonna, raga, stavo per morire, vero? Vabbè, chi se ne frega di quel coso! Non lo vogliamo più noi, raga! Allora, lo rilancio un pochettino storto, così vediamo! Se fa l'angolo, vuol dire che siamo qua sotto, in teoria, vediamo! Mi metto qua, mi metto qua, andiamo! Esatto! Ha fatto l'angolo, quindi basta che scendo più praticamente qua! Non cambia nulla dove scendo! In teoria, se faccio così... Neanche a farlo apposto ho trovato quello giusto! 4-4... Dai, lo facciamo il 4-4 stavolta! 6-7... 11 di qua, devo andare... Qua... Ok, qua sotto dovrebbe esserci direttamente la scalinata per andare dal drago! 7 minuti, raga! Ormai c'è proprio le speedrun, le abbiamo... Guarda! Cioè, siamo dei mostri, adesso no, dobbiamo contare le stanze! E ci siamo! Si vola! Che è sto buco? Che è sto buco qua, eh? Eh, mi dici, mi stai dicendo qualcosa? Mi sta dicendo qualcosa? Ma qua è tutto rotto, raga! Ma che devo fare? Ma che devo fare? Che c'è qua sotto? Oh, zombie! Con l'amico, ciao! Quella! Ma nel chilling così? No, però questi qua... Allora, uno sparisce e l'altro sparisce! Ma io ho una domanda, ragazzo! Ma questa spada funziona anche con il drago? Oppure quello no? Giusto per capire, eh? Non per altro! Perché almeno so se posso utilizzarlo per far sparire il drago! Allora, aspetta che ho su un po' di end... No, eh, lo sapevo io che eri cattivo! Io lo sapevo che eri cattivo! Me l'avevano detto, ragazzo server! Non è che devi fare così adesso, eh! Allora, qua ci sono ancora tutti i cosi, quindi... Non muore? No, raga, gli end crystal non muoiono! È un disastro questa cosa! Però ti dirò che non c'è bisogno di fare gli end crystal, secondo me! Ho sbaglio! Eh, mi sa che c'è bisogno, invece! Io ora sono con un sacco di vita! Ok, devo approfittare adesso che ho il funghettino che adesso sparirà! Ok! No, è sparito! Devo scendere così perché altrimenti mi ammazzo! Eh, purtroppo non va! Cavolo, il gatto... Il gatto incredibile non funziona, raga! Devo assolutamente aspettare che si ricarichi e mi vado a spaccare gli altri! Mangialo! Veloce che ho 5 minuti! Qua mica si ferma il timer per te, eh! Cioè, pensa a te, guarda! Che qua è andato... Questo è andato... Ok, posso andare anche con questo... Posso andare anche con quelli alti... Oh, mamma mia, mamma mia! Ho tipo 10 secondi per fare gli ultimi, raga! È l'ultimo! L'ultimo lì in fondo! Non mi mollare adesso, ti prego, eh! Ok, ora posso scendere... E ora siamo solo noi due! Io contro di te, draghettino! Vieni qua, piccolo amico! Ho appena guardato un enderman! E3B, per favore, che... Eh, drago! Ciao! Che va? Ma guarda un pochettino... Ma vi immaginate un drago che muore per dei gatti esplosivi? No, perché io non me lo immaginavo prima di oggi! Ora però volo, così mi avvicino a lui... Piccolo amico! Lo Smurf Cat ti vuole ammazzare! Ma proprio tantissimo! Drago? Ehi, drago! Non fare... Non fare così, drago! Io so che è un po'... È un po' umiliante, lo ammetto, eh! Avere dei gatti che esplodono e che ti ammazzano! Però purtroppo è la dura vita dello speedrunner! Ho vinto! Nel chilling! Me ne posso anche andare! Ciao a tutti! Eh, troppo fatto! Se ti sei dimenticato, lascia un mi piace e scrivi nei commenti Smurf Cat! Sì, grazie! Sì, grazie! Sì, grazie! Sì, grazie!